La chiave, come vedete questo cliente è venuto in queste condizioni, ha spaccato la chiave e noi gli abbiamo sostituito una parte di chiave, la parte superiore, eccola qui. Questa è la parte superiore, adesso noi cosa facciamo? Andiamo a vedere se tutto il lavoro che abbiamo fatto funziona bene. Ecco qua, guardate, quello che vedete trasponde, vedete? Senza di questa la macchina non parte, ok, benissimo. Ok, adesso lo avvitiamo. Vediamo, questa è la chiave rotta, questa vedete? Abbiamo scelto una parte, così paga pochissimo il cliente, 5 minuti e abbiamo scelto il problema. Ok, adesso andiamo a provarla, casa della chiave, non solo duplicazioni, anche riparazione, ecco qui, Volkswagen, Varsad. Scriviamo, vediamo se funziona. Perfetto, alla grande, il cliente con solo 20 euro ha una chiave funzionante e tutto questo è possibile alla casa della chiave. Alla prossima!